1, 2, 3 Vieni, vieni Salve Ma tu sei... So cosa vuoi dire, che siamo in tanti, che è difficile Vabbè, quindi che talento hai? Tanti, tanti, un mix diciamo Ti mettiamo il numero? Emozionatissima sono Ecco qua, ecco il numero Madonna, sono di un teso Attenzione ragazzi, tutti i cantanti da quella parte, per favore Non so quando tocca a me Si preparino i numeri 04034 Che numero ho? 01823 Sei prima tu? Ma va, dici? 01823 Vieni al tuo turno, andiamo sul palco Grazie Grazie, crepi Anche te Cugiardo 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 Ah, davvero? Vai Cosa farai sul palco? Una sorpresa, una sorpresa Non voglio... A questa edizione A questa edizione, io acqua Salute Cin 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 Sei pronta? Allora spacca tutto Grazie Vai Lodo Salve Buonasera Buonasera Salve Buonasera La stella La stella? Come ti chiami? Mi chiamo Lodovica Da dove vieni? Da San Daniele del Friuli Sì Prosciutti E perché sei qui? Aspetto questo momento da anni Da quando sono nata Ho sempre seguito Italia Sgottale Ho visto tutte le edizioni In particolare le ultime tre Top Bellissime Giudici Sono molto emozionata Non so Sono curiosa di conoscerli Uno che mi spaventa Bebe Sicuramente Bisio Perché da piccola Lo vedevo in tv Mi faceva paurissima Sarò sul palco Sì Con un numero inedito Penso non si sia mai visto in Italia Quello che farò L'ho visto fare una volta In un festival a San Luis Bellissimo Sono rimasta affolgorata Ho detto Perché no? Perché non provare a portarlo in Italia Dopotutto insomma Ne sarei capace Hai cento secondi Grazie Prego Grazie What is that? Come on. Ha, 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 ha! Last time. Grazie. Quanta energia, quanta energia! Sprecata! Oh dai, Mara! Sei impegnata. Sentiamo... Federica. Scusate. Un numero molto interessante. Grazie. Veramente molto, molto brava. Grazie. Prego. Ho voluto combinare un po' le... Certo. Le discipline. Mara! In qualsiasi cosa tu abbia fatto deve essere stata una qualità, un'attenzione, veramente una capacità invidiabili. Grazie, Mara, grazie. Lodovica, ti chiami? Sì, sì, Lodo. Lodovica. Lodovica, secondo me, vedo del talento, ma più come presentatrice. Cioè nella tua performance... Non è, non ti è piaciuta. Si capisce che puoi presentare un programma tipo Italia's Got Talent, uno a caso. E io volevo... No, fai schifo. Ok. No, Frank! Invece a me è piaciuto un sacco. Non vorrei essermi sui panni. Lodovica, senti, il numero mi è piaciuto molto, è un mescolamento, come diceva giustamente Mara, di stili, tutto bene. C'è stato un punto in cui veramente è crollato il tutto e... Dove? Quando... Quel momento del cerchio. L'abbiamo provato tanto e non è mai venuto benissimo. Se rifatte il cerchio fatto bene può darsi che io abbia... Ok. Abbia compassione di te. Rivediamo il cerchio. Ecco. Ecco. Grazie. E allora votiamo. Federica. Per me, sì. Mara. Sì. Frank. No. 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 E vai a casa con due no. 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 E due sì. No. 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 Vabbè. Ci sta. Ci sta. Ci sta. La vittoria è essere su questo palco. Grazie. Ciao. Ciao. Grazie a Lodovica. Ciao ragazzi. Tutti strani al mio. Ciao. Allora com'è andata? Due sì e due no. Non capisco cosa sia successo. Nella cronaca io ho detto no. Chi ha detto no? Io e Frank? Sì. Ci è anche rimasto un po' male secondo me. Anche. Anche. Ache. Anche. Anche. Provenzare. Tricingare. Ci sono anche com'è. Tricingare. Questa è ora. Ero io. Anche.